Qui vi presentiamo le 5 migliori battitappeti iniziamo. Per maggiori informazioni, guarda la descrizione sotto il video. Iniziando la nostra lista al numero 5. Eolo battitappeto professionale 350 mm più kit accessori filtro ETA. Questo elettrodomestico di tipo professionale è l'opzione perfetta per ripulire tappeti di grandi area e anche tappeti. Ha una potenza di 90 W 750 più 150 W ed è dotato di un filtro ETA, che mantiene inoltre polvere estremamente fine. La sua capacità del serbatoio di stoccaggio è di 5,4 litri. È completo di un tipico kit accessori ed è coperto da una garanzia triennale. Passando al numero 4. Tronscopa elettrica aspirapolvere verticale battitappeto turbotron. Questo articolo è un mop elettrico e un battiscopa, che con un gesto di base finisce anche per essere un oale verticale. Si approsta per piccole residenze dove non c'è molto spazio di archiviazione. Dotato di varie espansioni e anche numerosi oggetti, è incredibilmente leggero e anche molto conveniente. Ha un sacchetto di raccolta della polvere di grande capacità. Per maggiori informazioni, guarda la descrizione sotto il video. A metà della nostra lista al numero 3. La sua borsa di abilità caritatevole 4,2 litri ti consente di ridurre drasticamente la varietà di volte in cui devi intervenire per sfittire. Grazie a questo servizio di progettazione, sono garantite anche prestazioni di pulizia ottimali e una maneggevolezza estrema durante l'utilizzo. Istituito con un sistema di filtrazione con sacchetto in microfibra e filtro prematore pulibile, l'utensile ha una serie di circa 10,6 M. Almostat è top of our list at number 2. Over GL84 battitappeto globe, nero, l'uomo. Con una tecnologia moderna multiciclonica, garantisce una potenza di aspirazione elevata e costante. È senza sacchetto e occupa poca area grazie alla retrazione di cui prendersi cura. Con la sua espansione è possibile raggiungere aree difficili. Presenta l'innovazione spine guide per il controllo direzionale sia in mente che sotto i mobili. Consente di scegliere un trattamento separato in base all'altezza della pila del tappeto da trattare, semplicemente spostando un selettore di elevazione del rullo situato alla base della macchina. La consegna include mini spazzola turbo, spazzola in parquet, tubi estendibili e ancora di più. E infine il numero 1 della nostra lista. Over MBC 500 V BATTI MATERASSO TRAVORTEX È un paraurti materasso molto conveniente che ha la capacità di sbarazzarsi di sporco e polvere da tutti i mobili della tua casa come divani, cuscini e anche cuscini. È ideale sia per chi soffre di allergie che per chi ha animali domestici che hanno perso una grande quantità di capelli. Ha tre caratteristiche in modalità di aspirazione si libera di polvere e polvere. Ha un pennello turbo che passa attraverso le fibre dei tessuti per sbarazzarsi di allergeni e allergenie della sua lampada U che può uccidere fino al 99,9% dei batteri. Per maggiori informazioni, guarda la descrizione sotto il video. Grazie per aver guardato il nostro video. Per più, iscriviti al nostro canale.